Luca Basic, terza giornata di campionato per l'Allianz Milano, oggi una partita impegnativa contro Vibo Valencia, tra pochi minuti si scende in campo, l'obiettivo per Milano di conquistare tre punti e continuare ad essere comunque primi in classifica. Sì, ovvio, il nostro obiettivo adesso è continuare sulla strada giusta che abbiamo preso, continuare a sviluppare un buon gioco di squadra e imparare insieme a sviluppare questa affinità tutti insieme per crescere. La partita di oggi contro Vibo Valencia è una partita che si ripete dopo 16 giorni, una gara diversa, quella della Coppa Italia nella quale Milano aveva vinto 3-1 a Vibo Valencia, sarà una gara diversa sia perché si parla di campionato sia perché Vibo probabilmente si presenta con un gioco diverso, un gioco più amalgamato. Sì, loro hanno cresciuto tanto da quanto li abbiamo giocati, nonostante i due sconfitti in campionato contro Perugia e Modena hanno sviluppato un buon gioco di squadra, sono stati sempre vicini, quindi ovviamente ci aspettiamo una squadra tosta, aggressiva che cerca i primi punti in campionato. La partita di Vibo di oggi apre un percorso impegnativo per Milano, ci saranno tante partite in pochi giorni, sarà utile avere tanta concentrazione, tanta qualità in attacco, tanta qualità in difesa, tanta qualità in ricezione, ma soprattutto tanta qualità nella mentalità, nella testa. Esatto, noi mettiamo il focus su ogni partita, pensiamo ogni partita alla volta e cercheriamo di dare il meglio e stare focus su tutte le partite, ogni punto, ogni momento. Come vedi Milano, come sta crescendo in questo inizio di stagione? Io credo che la squadra sta facendo un buon lavoro, sia in palestra che durante le gare, che siamo bene tutti insieme, a me la squadra piace tanto, siamo proprio squadra, ecco non so cosa dirgli più.